Poi un messaggio che non c'entra niente col calcio e con questo chiudo per il momento Sempro chi la impegna per primo ha diritto di precedenza nelle rotatorie Ancora ti lambiri, non si dà a destra la precedenza Questo lo sapevo anch'io, in realtà è vero Nelle rotatorie chi arriva prima passa Ma mi facci una frega di risata Da domani mi mette a paluggire della rotatoria Che tre ore Stinghi sopra la rotatoria tre ore E non passa nessuno, solo tu perché ci dico Non la precedenza, a su stronziti in gaspone Mi mette a girare della rotatoria E qui ci fanno una fila di mare fino a quando mi arriva la 103 No, per regola quello che ha scritto lui è vero Sì, è vero, ma ci entro io quello che non capisco Perché non capisco, perché c'è lì il cerume Entra a 200 all'ordine della rotatoria, quello è il dramma Per arrivare prima Per arrivare prima, giustamente E' ovvio, no? Eh, povera boh, povera boh Eh, va beh, allora passiamo ai pronostici, dai